I dolorosi episodi che in questi ultimi giorni hanno inaspritto dalla delicata situazione della Repubblica Centrafricana suscitano nel mio animo viva preoccupazione. Faccio appello alla parte coinvolti affinché si ponga fine a questo ciclo di violenze. Sono spiritualmente vicino ai padri comboniani della parrocchia Nostra Signora di Fatima in Banghi, che accolgono numerose sfolati. Esprimo la mia solidarietà alla Chiesa, alle altre confessioni religiose e all'intera nazione centrafricana, così duramente provate mentre compiono ogni sforzo per superare le divisioni e riprendere il cammino della pace. Per manifestare la vicinanza orante di tutta la Chiesa a questa nazione così afflitta e tormentata, ed esortare tutti i centrafricani ad essere sempre più testimoni di misericordia e di riconciliazione, domenica 29 novembre ho in animo di aprire la porta santa della Cattedrale di Banghi durante il viaggio apostolico che spero di poter realizzare in quella nazione. Grazie a tutti.